Un po' di rigordi bianconeri Il 4-0 finale porta la firma di Simone Padui Perché i successi delle grandi squadre passano anche da qui I sorrisi però sono tirati Marchisio è uscito in barella Il suo ginocchio sinistro ha fatto crack Ma è l'infortunio E' un giro anche all'europeo E' una cosa Grazie